per un torneo che stiamo organizzando devo fare delle piccole trappole sonore l'idea è simulare in qualche modo no una claymore o qualcosa del genere e ho pensato di utilizzare questi allarmi magnetici pensati per se utilizzati sulle finestre per fare una cosa molto simile una scatolina marrone con scritto magari C4 o qualcosa del genere oppure gialla e nera con scritto attenzione esplosivo ma che dentro in pratica contiene questi questi oggetti questi oggetti sono in pratica c'è un sensore di un interruttore di un azionato da un magnete che è qui dentro e qui c'è il sensore il normalmente se il sensore non è disponibile sentire l'ho semplicemente acceso se il sensore l'idea è quella di tenere il tutto così e fare in modo che quando viene tirato un filo da questa parte questo senso questo magnete per rimetterlo in posizione basta semplicemente ripristinare spingere la il diciamo il fermo del filo rimettere il filo da pesca e riprendere alla giocare per la prossima giocata allora il magnete con tutto il suo supporto il magnete è questo più sopra con tutto il supporto è circa 5 centimetri e mezzo in realtà questa parte qui è quella è semplicemente un supporto meccanico quindi non è strettamente necessario però ci potrebbe tornare comodo magari vediamo potrebbe potrebbe essere utile magari utilizziamo un tondino metallico o qualcosa del genere magari ci mettiamo delle spine per per tenere il magnete in posizione e mentre tutto il sensore direi di considerarlo lungo 6 centimetri e mezzo direi 7 per quel che riguarda lo spessore invece siamo a due centimetri anche in questo caso due centimetri due centimetri e mezzo scarsi quindi comunque insomma non ci serve molto spazio interno potremmo sbizzarrirci e più o meno posizionarlo come ci capita insomma non è un grosso problema faremo una scatolina 10 per 6 e dentro ci mettiamo questo oggetto allora un po di pezzettini di pellet avanzati e quindi insomma perché non riciclare quello che abbiamo quindi per esempio questo che è abbastanza lungo penso che possa essere utilizzato per fare i fianchi lunghi e siccome è largo 6 ci va bene e però 6 per 10 sarebbe stato troppo piccolino quindi direi di fare 6 per 11 quindi prendiamo 6 per 11 e ricaviamo i due fianchi laterali adesso facciamo la il coperchio a questo oggetto ovviamente sarà così però abbiamo bisogno sia due due fianchi corti che del coperchio questa tavoletta è un pochino più larga lo utilizzeremo per fare il coperchio ma dovrà essere lunga come questa quindi lo usiamo come riferimento si escono anche tutte e due coperchi quindi alla fine andrebbe anche bene ora abbiamo i fianchi e i coperchi andiamo a metterli insieme per vedere un po come funziona è la nostra mina diciamo così sarà fatta in questo modo quindi quindi se quando questo verrà tirato via ok magari faremo un binario sotto per farla rimanere nella posizione giusta e poi faremo un metteremo un perno qualcosa che si voti dietro il nostro nostro magnete dopo aver preso i riferimenti di doveva il magnete doveva l'allarme abbiamo più o meno diciamo fatto in modo molto artigianale una guida per far scorrere il magnete e visto il consigliato che ci era avanzato un pezzettino di legno lo mettiamo qui per far andare anche il nostro allarme quindi li incolliamo in posizione e poi proviamo insomma il tutto per il cursore mi sono trovato in officina questi ganci che non sono altro che del fil di ferro che penso fossero gli agganci delle molle di un vecchio una vecchia rete per il madrasso che effettivamente può andare benissimo per il nostro per il nostro scopo quindi allungherò aprirò questo questo gancio questo qui lo incollo con la colla bicomponente sopra al magnete in modo che quando fa avanti indietro può scorrere tranquillamente e portarsi dietro il magnete suonare rimetterlo e non suonare per ora questi non sono fissati sono semplicemente appoggiati l'allarme andrà posizionato qui c'è un biadesivo utilizzeremo il biadesivo forse magari sostituiremo il biadesivo con del velcro per per farlo rimuovibile in modo più facile però insomma il principio è più o meno lo stesso poi metteremo questo pezzettino di legno qui e un altro pezzettino di legno più sopra in modo da avere comunque accesso all'interruttore lo volessimo spegnere però mantenere insomma in sede aiutare a mantenere in sede l'allarme questo farà da battuta quindi terrà il allarme in posizione e contemporaneamente farà da da guida per il nostro allarme il nostro magnete che potrà scorrere qui dentro faremo in modo ovviamente insomma che il magnete possa scorrere liberamente all'interno di questa di questo binario a questo punto dobbiamo fare anche i fondi cioè praticamente gli sportelli che vanno davanti e dietro per il nostro nostro finto c4 e in pratica dalle dimensioni viene fuori che sono 6 più o meno 6 per se per noi abbiamo messo anche un una specie di tappo adesso magari faremo un paio di fuori di invito e mettere un paio di viti per rendere tutto un pochino più stabile più solido abbiamo messo anche l'altra parete abbiamo fissato il tutto con con delle viti e adesso non ci resta che mettere un tappo superiore però vorrei fare in modo che questo tappo superiore sia diciamo rimovibile o quantomeno insomma sia ispezionabile nel senso vorrei fare una specie di di cerniera in modo da poter tirare su questo questo tappo e eventualmente per esempio spegnere l'allarme o fare altre operazioni quindi potrei cercare una cerniera vera non penso di averne quindi semplicemente farò due fuori qui e dall'altra parte ci metterò due chiodi o due viti e farò una specie di di cerniera dei poveri è il momento di fare il foro sulla parete per far andare la nostra spina avanti indietro avanti indietro sul nostro controllo per far andare indietro dal controllo quindi dobbiamo fare il foro più o meno all'altezza del del magnete abbiamo fatto il foro con il nostro dremel come potete vedere il cursore si muove adesso lo dobbiamo mettere in questa posizione in modo che quando tiriamo il cursore indietro questo si porta dietro il magnete e suona non avevo una colla epossidica particolare avevo solo questa per metalli però in fondo uno dei due componenti del metallo questo annellino l'altro invece è un è plastica in teoria dovrebbe funzionare aspettiamo che asciughi e vediamo facciamo qualche test nel frattempo che aspettiamo che la colla asciughi mi sono anche diciamo inventato di fare una specie di cerniera di questo andrà così e lo ritiriamo lo in più il fatto che scusate che questo vada qua dietro con la tavoletta superiore il coperchio a squadro avrebbe compromesso l'apertura perché ovviamente quando ruota lo spigolo sarebbe venuto fuori quindi ho stondato questo bordo in modo che quando si apre non non impiccia e non va a battere sul sul fondo della cassetta diciamo così ok diciamo che siamo a un buon punto ho rivestito tutto quanto con del nastro da pacchi semplicemente per simulare un ordigno occasionale diciamo fatto o più o meno in casa la confezione di un panetto poi magari ci metteremo degli adesivi che dicano insomma esplosivo attenzione ecc abbiamo fatto come abbiamo visto prima uno sportellino dentro c'è l'allarme e c'è il cursore no che tirando da qui davanti indietro su questo cursore c'è il magnete c'è stato incollato il magnete con la colla bicomponente si può attivare l'allarme con un po' di difficoltà ma insomma ci si riesce e una volta chiuso se qualcuno inciampa sul filo di nylon tira il pulsore più o meno diciamo che è concluso il nostro progetto mi era venuto in mente già un mero uno di mente già un paio di modifiche ma insomma penso che poi alla fine per esempio si potrebbe evitare questo spazio vuoto facendo tutta la scatola più piccolina però è anche vero che alle volte è comodo è comodo poter mettere dentro il dito per per fare le per accendere e spegnere l'allarme quindi va bene direi che possiamo chiudere qui questo video se vi è piaciuto un thumbs up è ovviamente sempre gradito se volete rimanere informati delle prossime uscite del viper slab sottoscrivetevi il canale e youtube ovviamente mi manderà le notifiche buona giornata